Martedì, le ferie sono finite, ma non per me che sono in ferie da 40 anni, mi mangio il fegato. Mi serve lavorare nelle ferrovie, nelle poste, in banca, in comune. Vabbè, è andato così, la colpa era mia. Ciao a tutti, mi sono da un pezzo a loro. Ciao a tutti. Ciao a tutti.